Come dicevo stiamo trasmettendo in diretta streaming dall'impianto sportivo della G-Tour un resort molto valido per l'organizzazione di questo tipo di eventi un'ottima logistica e due belle piscine, una da 25 metri e una da 50 dove si sta svolgendo in questo momento la gara di apnea dinamica senza attrezzi ecco che l'atleta croato Marco si sta preparando ecco che in questo momento parte per la sua prestazione un atleta molto longilineo ecco che passa in questo momento i 25 metri diciamo che l'assetto è abbastanza buono non c'è molta differenza tra la spinta di gambe e la spinta di braccia quindi è un gesto equilibrato tocca il muro dei 50 metri in questo momento vira e prosegue come dicevo la Croazia riesce a esprimere degli atleti di altissimo livello in tanti canti sportivi e anche nell'apnea ha degli atleti che sono ai vertici del ranking mondiale Mark continua la sua prestazione ha superato i 75 metri si avvia in maniera decisa a toccare la parete dei 100 metri che raggiunge e vira in questo momento stiamo avvicinando ai 107 ai 125 metri accelera la sua ci stiamo avvicinando ai 150 metri tocca in questo istante e vira quindi ottima prestazione fino adesso continua cercando di sprintare ancora 175 metri in questo momento quindi già si ottima prestazione fino adesso grosso modo siamo sui 100 180 metri circa ottimo il protocollo di uscita ottima prestazione per Mark ottima prestazione per Marco Moretti quindi la distanza ufficiosa grazie a tutti grazie a tutti